Scoprire o riscoprire Shakespeare all'interno del Bosco di Valle Castellana è l'obiettivo della ventiduesima edizione della Notte delle Paure che il piccolo comune del Terramano quest'anno ha deciso di dedicare ai 400 anni dalla morte del grande scrittore e commediografo inglese. Shakespeare 400 Il Bosco si muove, questo è il titolo scelto per le quattro repliche dello spettacolo dal 10 al 14 agosto. Titolo che evoca il Macbeth ma che racconta di uno spettacolo fatto di piccole e grandi gemme tratte dalle opere più belle di Shakespeare. La cosa bella è proprio sentire dei testi meravigliosi delle cose che Shakespeare ci ha regalato dal 600 cogliendo l'occasione dell'anniversario della morte di Shakespeare con 400 anni, noi in qualche modo vogliamo riportarlo nella natura perché i suoi testi stanno lì dentro come un gioiello quando vorrete a vederlo accorgerete che è una cosa unica è un testo sacro e in qualche modo allo stesso tempo universale. Invito tutti a venire e a sceglierci, so che ce ne sono tante le manifestazioni in giro ma noi abbiamo qualche particolarità se non altro quella ambientale che è qualcosa di eccezionale. Appunto è un'occasione per scoprire anche il territorio e il circondario di Valle Castellana. Esatto, diciamo che il progetto La Notte di Paure prevede anche quello quindi far conoscere il territorio, tra l'altro mi rifaccio anche un po' al film che è stato realizzato all'edizione 2014 che ho avuto modo di vedere in anteprima e vi assicuro che è uno spot promozionale per il territorio favoloso che mi auguro che poi magari sia usato anche per altri scopi.